C'è chi che dimagrita e vomita. Ovviamente la cosa fa male, questo perché i nostri succhi gastrici sono principalmente composti da acido cloridrico e lo stomaco è l'unico luogo in grado di sopportare la sua acidità. Quindi, andando a vomitare in modo continuo, quello che succederà è che si andrà a bruciare l'esofago andando a provocare diversi problemi gravi. Se il video vi è piaciuto, seguimi e condividi il video.